merendina riparte il format continua il format smerendiniamo insieme oggi sono andato su questo è troppo buonire non è per far pubblicità non me pagano non faccio pubblicità occulte e mentre faccio merenda un po alla mod di buongiorno un cazzo è tipo buon pomeriggio un cazzo voglio raccontarvi quello che mi è successo tra ieri e oggi che in realtà ha destabilizzato quella che doveva essere la programmazione di contenuti su questo canale perché oggi non era previsto questo video oggi era previsto un altro contenuto che poi purtroppo porco ne avevo previsto un altro che poi porco e poi ci arriviamo con calma mi piace per supportare i miei contenuti mi raccomando iscrivetevi anche su questo canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui miei video per ricevere in tempo reale le notifiche sul cellulare altri due canali youtube che parlano di calcio vi piace il calcio il gaming fifa pass anzi football siete interessati trovate i canali qua sotto in descrizione non compariranno qui durante il video mi sono un po uncazzato l'altro giorno ieri l'altro giorno ieri io perché poi dormo poco e mi sembra che sono passato i tre giorni ma realtà era ieri perché aspetta facciamo così voi faccio mi rendo partecipi anche di una delle mie fobie più grandi da quando c'è il covid e via dicendo eh bevo prima un goccio d'acqua assaggiamo prima un biscottino e poi assaggiamo li conosco sarò maniati 200 con 5 6 mesi da quando sono usciti perché prima non credo ci fossero li conosco da poco allora guardate le fobie e poi andiamo al discorso della diretta al discorso della a no posso a ecco allora anziché con questo spray quello la disinfettare perché posso mangiare così senza toccare il biscotto direttamente perché sia mai se fosse qua sopra il virus il virus assaggiamo così non me la vuoi che stessi quasi fanno pure male tra l'altro tutto alcol che metti sulle mani che tente te crepano e i batteri buoni ecco discorsi mi raccomando scrivete qua sotto questi fanno male fanno male muori muori mi raccomando hai detto da uno che non fuma beve non fa un cazzo poi voi magari non vi mangiate il biscottino con otto calorie in più e poi sbardoni vembriagate come le cocotte capite i fegari che scoppiano capite a me che fai ma vaffanculo va ecco mo perché tanto così è allora torniamo serio mazza è buona lo conosco per quante tavoli già pieno di grassi buoni buonissimi vabbè scherzi a parte ieri in tanti mi è stata scrivere quando torna gran turismo quando torna gran turismo quando torna gran turismo porto talmente tante cose su sto canale che a fine mi è accesa la scintilla ieri ricorderò momento gran turismo registriamo gran turismo vado bocco registro faccio 43 minuti 48 minuti o 43 stacco tutto vado a guardare a registrazione c'era solo l'audio non c'è stava il gioco io uso il gato il gato game capture 60 hd quella roba là mi succede una volta l'anno una volta l'anno è bello che avevo salvato ovviamente perché tu registri collegato che poi salvi fai salvataggio automatico mi pare che gran turismo no non mi pare è salvataggio automatico ho comprato pure la ferrari tra l'altro e dico mo perso mezza giornata mi registrato e fa quello quella quando vai nel momento clou poi fa niente uno dico vabbè dico se può fare una tier list se può fare la metal gear volendo no stavo a casa mia dell'avero mi vuoi fare una cosa registramo una bella tier list ieri c'avevo un po più di tempo dico magari quando torno e qua ah no la prima puntata l'ho registrata qua ce l'ho qua la playstation piccola con metal gear dico poi registro pure metal gear mi registro una tier list attacco tutto quanto faccio eh avevo scelto tier list serie tv che insomma può anche anzi fatemi sapere se vi interessa ma a riregistro dice perché perché mentre stavo a registrare dopo 12 minuti dei video e ancora ce ne avevo perché ce n'erano tante sono pala corrente sono pala corrente mesarta la registra e quello lo registro direttamente da mac con il programma per la registrazione quindi non c'entra niente il fatto che il gato non funziona non registro quel gato che sono pala corrente le bestemmie le ho mandate in paradiso hanno fatto proprio il giro largo hanno fatto sono tornato indietro da me e mi hanno detto che il messaggio è stato ben accolto ben recepito mi fulmineranno a breve probabilmente perché ho esagerato capite bene però mi sono cazzato perché dico non è possibile è due su due mi sono stufato perché poi ho detto della casa mia dove abito io dove vivo con la mia ragazza quando comincia sta cassa da corrente e quando hai richiappi ho detto me ne vado me ne vado sono venuto da qua vengo da qua dico registro metal gear perché almeno non so cioè lega so che qualcuno di voi dice non è possibile vengo da qua registro metal gear e da qua c'è un altro il gato in realtà c'è un altro il gato sempre che ho fatti i doppi perché così almeno ce l'ho perché se no ogni volta mi lo sta a portare il gato da dell'ad e qua ce l'ho doppi come c'ho due playstation 5 almeno quando devo eh lo so c'è lavoro quindi vengo da qua attacco metal gear con la playstation 1 playstation 1 quella piccolina attacco appiccico faccio registro 32 minuti dei video 34 minuti dei video io lo so come cazzo è possibile fatto sta che mi crasha il computer il portatile e la registrazione va persa non so non ci ho avuto manco il coraggio di andare a guardare perché la playstation piccola diciamo che c'ha è molto particolare c'ha anche l'auto save io non ho salvato perché si è staccato tutto poi ovviamente perdi la registrazione fai se io salvo poi come faccio a far vedere tutto quello che ho fatto se ho perso la registrazione insomma detto in altre parole mi sei bloccato il computer ho perso anche quella registrazione quindi ieri praticamente volevo fare tre contenuti non ce ne avevo manco uno pronto mi sono ritrovato oggi a dove me inventare tra virgolette i contenuti è una serie questa che porto che porto già da no da un po l'ho fatto non ho fatto uno solo d'episodio mi confondo con buongiorno un cazzo ed è una serie che comunque mi piace perché se parla perché comunque se mi succede qualcosa ok che poi nel prossimo buongiorno un cazzo vedete che è un contenuto che sono dieci minuti che sto a parlare non mi potevo soffermare troppo su queste situazioni mi piace portare anche questo genere di contenuti me ne vuoi rimettere fa un nuovo episodio del gt di gran turismo perché me l'avete chiesto e lo faccio metal gear perché ce voglio giocare ce voglio divertire voglio portare un nuovo episodio voglio fa un'altra dear list voglio tornare con in cucina col gabbon voglio che altro cazzo avevo detto ah no questa non ve la dico è una cosa una sorpresa che arriverà con fabio questo per tradurvi tutto messo un attimo zitto almeno non mangio qualcosa è buono questo era per dirvi che ultimamente la fortuna insomma ultimamente guardate quegli risultati a fantacalcio io e la fortuna viaggiamo su due lunghezze d'onda d'onda proprio completamente distanti niente mi sono sfogato vi ho detto quello che vi devo dire domani se riesco rilegisco tutto rizzo un pane coerenti e bestie miei cose domani qualcosa vi porto si vediamo alla prossima con un mazza secco manco un po' d'acqua con un nuovo video ciao raga